Cosa? Allora se oggi voi donate, grazie per le frecce, se mi uccidono vi giuro che dico una parolaccia Comunque, non è più Alex quello che viene ucciso con i 2500 bits Sì, vendetta! Perché effettivamente non era giusto, per quanto io ti odio da Disturbator Però non era giusto E dici bene! Quindi, Chico c'è Piedina che sta lurcando verso le tue cose No pestalo subito! No Disturbator viene rubato le robe! No! No Disturbator! Non ci posso credere! Piedina che non capisce ancora! No, dai Disturbator! Cosa ha preso? Come ha fatto? Dai sembrava una gazzaladra! È incredibile! No, no, no! Questa è vendicabile instantaneamente! Piedina che non capisce ancora! Non ci posso credere! Cosa ti è rimasto? I calzoni proprio! Dai con le calzoni! Aia basta! Ma chi è? C'è che idea del cazzo! Scusate! Allora, spostiamo un altro Cazzo! Ehi! Che è successo? Che è successo? Volevi rubrare le cose di cibo! Ho visto qualcuno lì! Qualcuno al posto mio l'hanno rubato le tute! Per Disturbator! Per Disturbator! Ha colpito! Ciao Piedina saluta a tutti! Buonasera a tutti quanti! Tieni una sella eh! Nel caso tua madre ne avesse bisogno! E io che ti ho chiesto grazie! Ciao Piedina! 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 Grazie a tutti